Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La nostra regione è interessata da due giorni dall'alta pressione. Le giornate sono state splendide, compresa quella di oggi. La situazione cambierà nei prossimi due-tre giorni. Infatti la circolazione depressionaria attiva in questi giorni al centro-sud tenderà a risalire la nostra penisola e appunto la nostra regione vedrà un graduale peggioramento. La giornata di venerdì inizierà con cieli sereni su tutta l'Emilia-Romagna ma la nuvolosità durante la giornata aumenterà specialmente tra fine mattinata e la prima parte del pomeriggio. Da metà pomeriggio la nuvolosità risulterà a tratti consistente e tra fine pomeriggio e tra la sera e la notte qualche precipitazione potrebbe interessare l'Appennino centro-orientale ma anche le aree pianeggianti specialmente tra Romagna e Ferrarese. Rovesci veloci ma non si esclude anche qualche veloce temporale. Per quanto riguarda le temperature minime saranno comprese tra 9 e più 14 gradi, valori massimi stazionari compresi tra 19 e più 24 gradi. Ventilazione a tratti moderata sul mare che risulterà poco mosso. Tra le giornate di sabato e parte di domenica avremo maggiori precipitazioni soprattutto sabato pomeriggio. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Grazie a tutti.